Buongiorno Buongiorno Il grande artista cantante, il ballerino Era anche un grande uomo, con un grande cuore Perché durante tutta la sua vita ha fatto tantissime cose Per i bambini poveri, i bambini che avevano delle malattie La maturazione del genere Ha speso tutta la sua vita per dare sempre qualcosa in più A tutti quelli che non ce l'avevano Quindi adesso è questo che vi facciamo vedere Una parte diversa, perché magari voi in televisione avete visto un altro Michael Jackson Cioè quello che era l'artista, quello che attrae, vi piace Quello che sapeva ballare, sapeva cantare Oggi, se non l'avete ancora visto, vedete un altro lato di Michael Jackson Quello che poi forse è quello che ricordate Che cosa ha fatto? È vero che è giurato È vero che non è vittima Questa è da un lato di Michael Jackson E mi ha trovato i membri del frattis Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione 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 Grazie per la visione